Il nostro telegiornale Il nostro telegiornale che apre un'altra settimana dedicata all'informazione. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. Il servizio pulizia al comune di Sulmona ad un'altra ditta per tre settimane. Dunque un Natale da dimenticare per le lavoratrici della cooperativa. Ce ne parla nel servizio Andrea D'Aurelio. Un affidamento diretto di appena tre settimane. Il tempo necessario per ottenere tutti i documenti mancanti dall'Agenzia dell'Entrata e riaffidare l'appalto alla COP 2001, seconda in graduatoria dopo la Puritas che è stata esclusa. E quando si è deciso a Palazzo San Francesco per lo svolgimento del servizio di pulizia è finito la ribalta della cronaca con le 11 lavoratrici della COP 2001 che attendono il pagamento al retrato degli stipendi di agosto, settembre, ottobre e novembre. La Filcams CGL, oltre all'esposto alla procura che sarà presentato mercoledì, chiederà una nuova convocazione con il prefetto. Il precedente appalto è scaluto lo scorso 30 ottobre. Le dipendenti della cooperativa hanno proseguito a lavorare, rassicurate sul fatto della proroga che formalmente non è mai arrivata. Da lì la decisione di ricorrere alle ferie forzate in attesa dello sblocco della situazione, che ora rasente il paradosso, dal momento che per tre settimane il servizio sarà affidato a un'altra ditta. Niente panettone quindi per le 11 lavoratrici che sono disperate, tenendo conto che nell'ultimo periodo hanno subito anche la riduzione delle ore e sono costrette a vivere con qualche centinaio di euro. Si tratta di un affidamento per non interrompere il servizio per tre settimane in attesa del nuovo subentro della COP 2001, spiegano da Palazzo San Francesco, anche se per procedere all'affidamento di 21 giorni mancherebbero ancora il visto tecnico e contabile. In realtà negli ultimi giorni il servizio si è praticamente interrotto, senza contare che dal 31 ottobre le dipendenti della COP 2001 hanno lavorato senza la proroga, pur essendo assunte. Le carte sono pronte, mercoledì andrò dall'avvocato, annuncia il segretario della Filcams CGL della provincia dell'Aquila Luigi Antonetti. Non mi fermo e chiederò un nuovo incontro al prefetto, questo è un caso grave e deve avere ampia risonanza. Pertenza Olicar, arrivano gli stipendi arretrati, nuova convocazione dunque sotto l'albero, affrontiamo quest'argomento nel nostro servizio. Torna in sereno fra la società Olica, recento lavoratori stato reagitazione che svolgono servizio nei presidi ospedalieri di Sulmona, L'Aquila, Cassel di Sangro e Avezzano. Come stabilito nell'ultimo tavolo tecnico, a Torino gli stipendi sono stati accreditati a metà novembre. L'avvertenza può dirsi in parte risolta, ma la Filcams CGL della provincia dell'Aquila non intende abbassare la guardia sul futuro dei lavoratori. Un nuovo incontro in effetti è in programma il prossimo 14 dicembre per definire le condizioni definitive dell'appalto e dare respiro ai lavoratori senza più ricorrere a forme iniziative di protesta. L'avvertenza Olicar ha portato infatti nei mesi scorsi prima l'indizione dello stato di agitazione per cento lavoratori che lavorano nei nosocomi della provincia dell'Aquila e subito dopo uno sciopero che ha ottenuto il 100% di adesione oltre al blocco degli straordinari. Una situazione che era diventata insostenibile e ha portato le parti a sedersi intorno a un tavolo per fissare il 21 novembre la data del pagamento degli stipendi arretrati che poi sono stati accreditati. Ma ora si cerca una soluzione definitiva e il confronto si riaprirà a ridosso del Natale. Nuova ordinanza poco fa del comune di Sulmona sulla scuola primaria Luciana Masciangioli. Il comune ha disposto di sospendere le attività educative didattiche e le lezioni per le 11 classi della scuola primaria Masciangioli nella giornata di domani collocata presso i MUSP nell'ex caserma Cesare Battisti. Dunque nell'ordinanza viene disposto di consentire la ripresa regolare delle attività educative didattiche delle lezioni in data 5 dicembre quindi domani nell'edificio scolastico Capograssi di Via Dalmazia per le due sezioni della scuola dell'infanzia Collodi nonché per le 10 classi della scuola secondaria di primo grado Capograssi e dunque slitta ancora l'apertura dei MUSP. Dopo la verifica di domani al termine del trasloco ci sarà l'annuncio dell'apertura dei MUSP che dovrebbe avvenire per la giornata di mercoledì 6 dicembre. Adesso parliamo dello sciopero alla Magneti Marelli di Sulmona. Sciopera l'80% dei lavoratori. Andrea D'Aurelio nel servizio. Alta adesione allo sciopero indetto dalla Fiume Cigiele della provincia dell'Aquila allo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. Non una protesta contro l'azienda ma una mobilitazione nazionale che vuole contrastare le scelte del governo in materia di pensioni e manovra economica. Nonostante tutto la percentuale di adesione alla manifestazione si attesta intorno all'80%. Un dato che lascia non poco entusiasmo fra i vertici del sindacato che parlano di sciopero pienamente riuscito. La protesta ha voluto smuovere il governo al rilancio delle politiche industriali, alla modifica radicale della legge Fornero a partire dal blocco dell'età pensionabile, agli ammortizzatori sociali per tutti a partire dai contratti di solidarietà e agli incentivi per un'occupazione stabile e sostegno alla formazione. All'Amarelli di Sulmona lavoratori e sindacato hanno detto no alla manovra economica. Una previdenza che secondo la Fiume continua sulla strada della riforma Fornero, concede solo qualche deroga ma insiste sull'aumento automatico dell'età pensionabile, non apre sulle pensioni di garanzia per i giovani e discontinui, non dà risposte ai lavoratori precoci. Ma la protesta è scattata anche contro la volontà del governo di confermare che per le aziende è più conveniente licenziare, che è ricorrere alla cassa integrazione senza affrontare il problema dell'occupazione giovanile, limitandosi a decontribuzioni e incentivi che producono al massimo occupazione sostitutiva. Questa mattina è avvenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Teramo. 18 consiglieri comunali, 11 dell'opposizione e 7 di Futuro In e Civica al centro per Teramo hanno presentato le proprie dimissioni dinanzi al Vice Secretario Generale del Comune Fulvio Cupaiolo, determinando così il venir meno del numero minimo di componenti per l'attività amministrativa. Dunque, anche se con posizioni diverse e polemiche all'interno, questo eterogeneo gruppo ha retto senza ripensamenti dell'ultima ora. E come annunciato all'indomani del rinvio del 7 dicembre del Consiglio straordinario, si sono presentati puntuali all'appuntamento fissato per mezzogiorno al protocollo comunale. Alla firma mancavano i soli consiglieri Paola Cardelli, indipendente, e Milton Di Sabatino, presidente del Consiglio Comunale, ed esponente di Futuro In, gruppo di maggioranza relativa, che fa capo al Vice Presidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, impegnato fuori città questa mattina. Teramo è dunque ancora in piena emergenza dopo i terremoti degli scorsi mesi. Adesso arriva questa bufera politica con lo scioglimento del Consiglio Comunale. Torniamo adesso a Sulmona. Lunghe attese in ospedale di servizi per la consegna del materiale. Arriva il nuovo allarme dei diabetici. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Convenzione per l'agevolazione economica agli utenti tesserati. Consulenza psicologica gratuita. Richiesta di due medici diabetologi all'ospedale di Sulmona per evitare le lunghe attese. Mette il turbo all'associazione Pelinia Diabetici, guidata la Salvatore del Boccio, che torna a denunciare i disservizi per la consegna del materiale, che si verificano soprattutto nel distretto sanitario di Pratola Pelinia. Una serie di segnalazioni sono arrivate nell'ultimo periodo all'associazione che rilancia l'allarme. L'associazione interviene del Boccio. Continua a ricevere denunce da parte dei pazienti sui disservizi inerenti, la consegna del materiale gestita dai distretti. In particolar modo arrivano lamentere sul distretto di Pratola. Il suo mancato funzionamento sembrerebbe legato alla mancanza di materiale e di un orario stabilito. L'associazione esposa e persegue appieno l'idea del coordinamento regionale e della regione di fare la consegna del materiale nelle farmacie di residenza in maniera nominale, pertanto punta raggiungimento di tale obiettivo. Poi riferimento alla pianta organica del reparto di diabetologia dell'ospedale Pelinio. L'unità di Sulmona raccoglie più di 3.000 pazienti diabetici, ricorda del Boccio. Si ritira indispensabile avere due medici diabetologi all'interno del reparto, così da smaltire la lista di attese in tempi brevi, evitando le lunghe attese cui sono attualmente sottoposti i pazienti diabetici. L'associazione nel frattempo, grazie alla collaborazione gratuita offerta dal dottor Luca Russo, podologo e posturologo, ha stipulato una convenzione con l'ortopedia Mandeck al fine di garantire un'agevolazione economica a tutti coloro che sono in possesso della testa dell'Associazione Pelinia Diabetici e approvato con il supporto della dottoressa Angelica Pezio in progetto intitolato Il Sangue Zuccherino, offrendo una consulenza psicologica gratuita a tutti coloro che possiedono la testa dell'Associazione regolarmente vidimata nell'anno corrente. Dopo la scossa di magnitudo 4.0 verificatasi nei pressi di Amatrice tra Rieti e L'Aquila, l'Enel ha avviato le necessarie verifiche sulla sicurezza delle dighe nella zona. I controlli visivi effettuati, fa sapere l'Enel in una nota, hanno già confermato la sicurezza delle opere mentre sono in corso le verifiche strumentali previste. I controlli proseguiranno mantenendo la continua informazione e interazione con l'autorità nazionale competente al controllo dighe e con il Dipartimento di Protezione Civile. Nuova vita per la chiesa di San Francesco della Scarpa a Sulmona, un sogno che diventa realtà. Vediamo. È un grande sogno perché penso che ci sono tante maniere di predicare la buona novella. È ora di predicare, come dice il Signore, con le opere, con la vita. Sono le parole di Don Gilberto Squategui, al termine del rito di benedizione del portale, portone della chiesa di San Francesco della Scarpa che torna all'antico splendore dopo il progetto di restauro che è giunto a conclusione. Ieri la grande festa è scoppiata proprio nello storico edificio di culto, prima con la Santa Messa, poi con un ricco buffet. Un segnale di speranza per il centro storico, per l'intera città che ritrova un pezzo della sua identità storica. Il Signore ci presenta un'opportunità meravigliosa, tirare a lucido la bellezza della nostra città, perché queste pietre rappresentano anche le pietre vive. I cittadini di Sulmona meritano, perché questa è la volontà di Dio, vedere una città rinnovata, piena di entusiasmo, piena di speranza, lo meritano anche le generazioni future. È una chiesa molto bella, molto particolare della città. Auguro presto a questa comunità parrocchiale di poter eseguire anche i lavori per intervenire sull'organo e sulla cassa dell'oro. Sì, è bellissima, l'ho vista, sempre, molto più bella. Questo è un risultato importante, adesso prenderemo un piccolo periodo di riposo, poi a gennaio ricominceremo a lavorare per completare l'opera. Ci sono quasi nato qui, è stata la mia prima chiesa sul mondo, nel 1958, quindi sono legato alla chiesa da molti ricordi, da emozioni, dai genitori, da tutto. È bellissima, è stupenda, siamo proprio felici. Il progetto di restauro è stato condotto dagli architetti Luigi Lacivita e Sandra Caroselli, mentre l'esecuzione è di Paolo Cui, ma l'intera iniziativa sarà portata avanti dal comitato proprio a Francisci, che ha promosso eventi benefici e raccolta fondi per il restauro, non solo del portale e portone della chiesa, ma anche dell'affresco. 15.000 euro i fondi impiegati, una parte dei finanziamenti è arrivata dai benefattori anonimi e dall'imprenditore italo-americano Filippo Frattaroli, che ha sposato in pieno il progetto. Ora resta solo la facciara da restaurare, come hanno fatto notare in molti, ma sarà il prossimo step di un sogno che va avanti. Adesso parliamo delle lezioni alla Scuola di Liberalismo di Sulmona, perché nei giorni scorsi c'è stata una conferenza, una lezione dell'onorevole Mario Barbi, che ha analizzato gli aspetti della fase che hanno contraddistinto il passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica. Gaetano Trigilio nel servizio. Proseguono a Sulmona, nella Casa Capograssi, l'elezione promossa dalla Scuola di Liberalismo. 1992-93, tra la Prima e la Seconda Repubblica. Speranze e delusioni. Questo è il tema della lezione tenuta qualche giorno fa. Relatore, l'onorevole Mario Barbi. Onorevole, ci fu un grande cambiamento politico, ma non solo politico, nel 92-93. Quali sono i fatti o gli antepatti che determinarono questo profondo cambiamento? La caduta del muro di Berlino, quindi la fine della guerra fredda. E la globalizzazione che allora si avvia e che prende sempre più forza, quindi mercati aperti, libera concorrenza e finanza libera in tutto il mondo. E da ultimo il trattato di Maastricht, quindi la moneta unica e l'integrazione europea. Barbi è stato ed è un giornalista molto impegnato, ha scritto per diverse testate giornalistiche e dà diretto molti giornali. È stato corrispondente dall'estero e in particolare dalla Germania. Oltre che giornalista valido, uomo politico, deputato dal 2006 al 2013 per il Partito Democratico. Ci avviciniamo a una competizione elettorale molto difficile, molto complessa. Ci sono non più due partiti, ma ci sono tre poli addirittura. Berlusconi va avanti ancora con grande forza, mentre nel Partito Democratico si litiga un pochino e da quell'altra parte il Movimento 5 Stelle in qualche modo va avanti. Dove va l'Italia? L'Italia va faticosamente verso delle elezioni difficili in cui i grandi problemi del Paese non vengono discorsi in modo sufficiente. Abbiamo accumulato un ritardo enorme sul piano degli investimenti pubblici e della modernizzazione delle infrastrutture. Dobbiamo pensare in modo diverso al risanamento del bilancio da come è stato fatto e della finanza pubblica da come è stato fatto fino ad oggi. Di questo non si parla a sufficienza. Se pensiamo che il fascismo è durato 20 anni e oggi siamo ancora in una crisi politica nel nostro sistema politico da 25 anni, penso che era doveroso cominciare un pochino a riflettere su quello che è accaduto, su quello che è avvenuto e su quello che sta avvenendo e quali possono essere anche le prospettive future. Una decina di tifosi del Campobasso sono stati identificati dalla Polizia in riferimento ai tafferugli avvenuti ieri al termine della gara del campionato di Serie D tra Vasto e Campobasso nei pressi della circonvalazione istoniense. Per loro verrà proposto un provvedimento collettivo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, cioè il DASPO. Attraverso la visione delle immagini la Polizia di Vasto vuole risalire all'identità di altri tifosi che hanno partecipato agli scontri. Il dirigente del locale commissariato Fabio Capaldo con i suoi collaboratori è impegnato nel visionare i filmati dei tafferugli. Se ci saranno ulteriori identificazioni anche per gli altri potrebbero scattare dei provvedimenti restrittivi. Al commissariato è stata presentata una denuncia per danni patiti ad un'auto da un incolpevole cittadino vastese che transitava al momento nella zona degli scontri tra tifosi a colpi di lancio di pietre e bastoni. Adesso passiamo al calcio giocato nella quindicesima giornata del Girone F della Serie D. Importante successo esterno dell'Avezzano che batte il San Marino per 3-0. Colpo fuori casa anche del Francavilla che vince contro la Vispesaro per 1-0. Netta vittoria casalinga della Vastese contro il Campobasso per 4-0 nei due derby abruzzesi di giornata 1-1 tra Pineto e L'Aquila mentre Nerostellati-San Nicolò è finito con una vincente 3-3. Nessuna sconfitta dunque per le abruzzesi e successo di misura della capolista Matelica per 1-0 contro la Recanatese. Matelica comanda con 38 punti, seguono Vispesaro 34, Vastese 33, Avezzano 29, Francavilla in sesta posizione a 23 punti, L'Aquila e Pineto a 22, San Nicolò 15 e Nerostellati ultimi a 4 punti. Impressionante rimonta dei Nerostellati che al Pallozzi di Sulmona sotto di tre gol contro il San Nicolò sono riusciti a pareggiare grazie ad una doppietta di Bruni e un rigore di Conè. Vediamo nel servizio di Giulio Misticone. Termina in parità la sfida tra Nerostellati e San Nicolò. Un derby pirotecnico avvincente tirato fino al triplice fischio finale. A provarci per primi sono i Nerostellati pericolosi con Di Ciccio sugli sviluppi del primo corner del match battuto da Vitone. La risposta ospite arriva con il destro di Massetti che non inquarra la porta imparente superato al dodicesimo quando di Benedetto porta in vantaggio il San Nicolò che appena un minuto dopo vede concedersi un calcio di rigore al momento della caduta di Moretti in area Peligna e proprio Moretti a presentarsi sul dischetto e a portare il San Nicolò sul 2-0. Cenni di risveglio da parte dei Nerostellati. Bottali del Gizzi con pallone che giunge a Conè ma è decisivo il riflesso del numero uno ospite Gori. Alla mezz'ora il San Nicolò cala il Tris con Giampaolo che spedisce in rete il traversone di Massetti. 0-3 e Nerostellati sotto terra. La squadra di Di Marzio però non getta la spugna. Al 32esimo è Onwashi a timbrare il palo alla destra di Gori. Quattro minuti dopo però l'estremo difensore Terramano deve arrendersi alla conclusione di Bruni che avvia la rimonta dei Peligni. Davvero mai domi. Prima è la traversa a dire di no a Vitone e poi è Tersini a salvare sul tentativo di Onwashi. Al 47esimo Bruni va giù in area ospite col direttore di gara che concede il penalty sprecato malamente da Onwashi per il rammarico del pubblico di fede Nerostellata. Quattro minuti più avanti il San Nicolò resta in dieci uomini quando arriva il secondo cartellino giallo per Monaco. A metà ripresa apparente e provvidenziale sulla stoccata di Giampaolo. I Nerostellati si portano all'assalto della porta Terramana salvata da Gori sul siluro di Magzawi. Peligni costantemente proiettati in avanti. Il gol è nell'aria e arriva all'ottantunesimo con Bruni che firma la sua doppietta di giornata. Vibranti proteste Peligni e quando è Tersini a intercettare con il braccio la conclusione di Bruni con l'arbitro che lascia giocare. In pieno recupero Cone viene atterrato in area. Il direttore di gara non ha dubbi nell'indicare il dischetto e nelle spallere De Santis. San Nicolò in nove uomini sul dischetto si presenta proprio Cone che insacca alle spalle di Gori facendo esplodere il Pallozzi per un 3 a 3 strameritato. Le interviste realizzate al termine di questo match saranno proposte nel nostro speciale calcio del lunedì al termine di questa edizione del nostro telegiornale. Nella sedicesima giornata del girone B della promozione sconfitta del Casalborrino per 2 a 1 contro il Villa 2015. Alla luce di questo risultato si fa sempre più interessante la lotta al vertice con un quartetto al comando insieme al Casalborrino a 29 punti. Ci sono il Delfino Flaccoporto che ha battuto il Sulmona per 2 a 1. In gol per i Biancorossi il nuovo arrivato Palombizio. L'Ortone che ha sconfitto la Sportland Celano per 3 a 1. e la Val di Sangro che ha battuto il Real Treciminiere per 2 a 0. Vittoria Casalinga del Raiano per 2 a 0 contro la Fater Angelini Abruzzo mentre la Virtus Pratola pareggia 0 a 0 contro la Casolana. In classifica il Sulmona al sest'ultimo posto con soli due punti di vantaggio rispetto alla quint'ultima posizione occupata dal Raiano alle spalle. la Virtus Pratola a 16 punti. Nella tredicesima giornata del Girone C della prima categoria il Bugnara ferma la capolista Scafa sull'1 a 1. Pareggio anche del Pacentro che non va oltre il 2 a 2 Casalingo contro l'Alanno. Al vertice importante successo del Manoppello Arabona che batte il Giuliano Teadino per 3 a 1 e sale in terza posizione a 25 punti. Sconfitta esterna per 2 a 1 della Moronese contro il Villamagna. Paura ad inizio ripresa quando il difensore Peligno Antonio Pezzi a contrasto con un difensore locale ha subito una ginocchiata alla testa rimanendo per pochi istanti privo di sensi. Per lui sono stati necessari gli accertamenti in ospedale. Perde anche il Popoli per 2 a 1 contro il Sant'Anna. In classifica comanda lo Scafa a 33 punti. Pacentro e Bugnara in sesta posizione a 23. In zona play-out il Popoli quinto ultimo a 13 e la Moronese penultima a 5. Nell'undicesima giornata del girone B della seconda categoria ha osservato il turno di riposo l'Oviliana. Sono invece scese in campo le altre squadre con la capolista Marruvium che ha sconfitto il Capestrano per 7 a 2. al vertice vincolo anche l'Atletico Civitella Roveto 3 a 2 contro il Castronovo e la Plus Ultra 6 a 1 contro il Cesem. Marruvium comanda a 26, seguono Atletico Civitella Roveto a 25 e Plus Ultra a 23. Ovidiana in settima posizione a 15 punti. Lasciamo il calcio e passiamo alla scherma Sulmona Fiore all'occhiello di questa disciplina della scherma. Verrà inaugurato domenica il Centro Regionale Federale. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. L'SD Ginasium Scherma Club Sulmona e la Salarmi di allenamento a Sulmona sono state indicate come Centro Federale Regionale per l'Attività Schermistica ad Abruzzo. L'Associazione Caseta Arraiano e la Salarmi di Sulmona diventano quindi punto di riferimento a livello regionale per questa disciplina sportiva. Un risultato che premia gli sforzi e l'intensa attività dell'Associazione sul territorio. Fin dall'inizio Fiore all'occhiello per una tipologia di sport che spesso resta sotto tono. Per la Ginasium Scherma Club si tratta di un vanto per aver avuto questo riconoscimento. Verranno periodicamente a Sulmona tutti gli atleti d'Abruzzo per allenamenti collegiali, corsi d'aggiornamento, corsi tecnici e organizzativi. Da non sottovalutare spiega il Presidente dell'Associazione Quintino Moca che la FIS nella sua programmazione agonistica annuale potrà utilizzare l'impianto anche per allenamenti e stage per gli atleti delle varie rappresentative azzurre. Inutile sottolineare l'importante indotto economico sportivo che tale designazione porterà alla città di Sulmona. La cerimonia di inaugurazione del Centro Regionale Federale è in programma per domenica alle ore 10.30 nella sede sulmonese di via Stazione Introdacqua. Adesso chiudiamo la pagina sportiva, passiamo ad altro e ci occupiamo dei numeri, del bilancio dei vigili del fuoco che è stato fatto in occasione della festa di Santa Barbara di oggi. Gli interventi dei vigili del fuoco a Sulmona si sono triplicati, 335 uscite sono state solo per gli incendi. Facciamo il punto della situazione nel servizio. Boom di interventi per incendi ed esplosioni. Le operazioni dal 1 gennaio ad oggi, 4 dicembre, sono state 335. Il consuntivo arriva dai vigili del fuoco di Sulmona nel corso della consueta festa di Santa Barbara, patrona dell'intero corpo. Prima la Santa Messa ufficiata da Don Domenico Villani al Duomo, poi il suono della sirena, la presentazione delle attività a portare avanti dei vigili del fuoco. Numeri triplicati rispetto all'annualità 2016, un anno che ha visto l'impegno degli uomini del 115 per fronteggiare l'emergenza incendi. Quest'anno è stato un anno veramente duro in tutta Italia e qui la comunità Sulmona abbiamo avuto un evento che ci ha impegnato per circa due mesi. Il comando non ha lasciato questa città da sola ad affronteggiare un evento molto, ma molto, molto pesante. Avete visto tutti quello che è costato in termini di risorse, impegno, ma anche delle numerose componenti volontari per fermare un incendio che purtroppo ha fatto un bel danno in questa bellissima vallata. Giovannone torna anche sulla riforma Madia. Siamo trovati di fronte a una situazione nuova, ma che avrebbe visto, messo in difficoltà qualsiasi componente, perché è una situazione veramente diversa dagli altri anni. Fra gli altri interventi si registrano 33 uscite per l'emergenza legata all'acqua, 17 per falso allarme, una per dispersione, 335 per incendi ed esplosioni, 37 per incidenti stradali, 28 per interventi che poi si sono resti non più necessari, 33 per recuperi, 163 per soccorsi e salvataggi, 86 statica, 470 interventi vari. E' tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Adesso vi lascio allo speciale calcio del lunedì dedicato al confronto di Serie D, Nero Stellati San Nicolò, terminato con una vincente 3 a 3. I Nero Stellati erano sotto di tre reti, sono riusciti a pareggiare incredibilmente questo confronto. Spazio alla cronaca e alle interviste realizzate al termine del match lo speciale calcio che sarà replicato questa sera alle 21 per quanto riguarda il TG, appuntamento alla prossima edizione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata a tutti voi. Sulla nostra regione condizioni di cielo molto nuvoloso, coperto con possibili residue, e deboli precipitazioni sul settore orientale e al ridosso dei rilievi, nevose intorno ai 600 metri. Ma poi si avranno schiariti a partire dal Terramano e dall'Alto Aquilano in estensione verso le restanti zone. In notata e nelle prime ore della mattinata di domani si prevedono gelate diffuse anche in pianura. Un ulteriore miglioramento è previsto a partire da domani. Temperature in diminuzione specie nei valori minimi, in aumento nei valori massimi. Venti deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera. Mare generalmente mosso. attenzione specie nei valori massimi. Venti a partire da domani. Venti a partire da domani. grazie.